È stato un politico affermato, presidente della provincia di Roma, parlamentare, sottosegretario e sindaco di Colleferro. Silvano Mofa questa volta è tornato alle origini, al mestiere che tanto amava, il giornalismo. Ed è proprio nella sua Colleferro che è nato il mensile monocolo. Come le è venuta questa idea? Il giornalismo è una passione che hai nell'animo e quindi cerchi di coltivarla quanto puoi. Adesso ho più tempo, è tornata viva in me questo desiderio di fare un giornale, di organizzare soprattutto un giornale della provincia. Penso che oggi ci sia bisogno di un giornale di approfondimento, anche per essere un po' alternativi rispetto alla cultura dei social. Il mensile radicato per lo più a Colleferro, a Nagni e Valle delle Sacco si sta spingendo oltre e presto arriverà a toccare il nord del litorale, Cervetri e Ladispoli. Noi abbiamo una grande ambizione, quello di far diventare il monocolo il giornale della provincia di Roma e poi perché no, anche di proiettarci su Roma. Io credo che un giornale distribuito gratuitamente dove ci sono analisi, si parla di economia, si parla di sport, si parla di cultura e si aggrediscono i problemi del territorio, sia un giornale un po' appetibile e un giornale desiderato da tutti. Un periodico di approfondimento con tematiche vicine ai problemi della gente, una voce che va fuori dal coro. È un giornale libero, ovviamente ha una sua impostazione culturale molto chiara, ma è un giornale libero, aperto a tutti, aperto al confronto, che vuole anche essere un laboratorio per far emergere nuove energie intellettuali e giovanili. Noi abbiamo bisogno anche di creare una classe dirigente del futuro. Ecco, abbiamo l'ambizione di gettare un seme per fare di questo giornale la palestra anche di chi, speriamo, un domani possa essere classe dirigente del nostro paese e magari governare anche meglio di alcuni amministratori attuali. Ma qual è il vostro obiettivo? È tornata la voglia di leggere. Io ricordo sempre una bellissima iniziativa che feci in provincia di Roma nel 2000, in occasione del Giubileo, prendendo spunto da una invocazione di Papa Voitila, che diceva ai giovani, guardate, usate il computer ma dovete anche leggere i libri, perché il libro ti consente non soltanto di elevare la tua cultura, ma anche di sedimentare il pensiero, di ragionare, di riflettere. E fece un'iniziativa importante che fece anche scalpore in quel tempo, cioè quello di chiedere a tutte le scuole di Roma di indicarci gli studenti più meritevoli a cui offrire l'opportunità di scegliere un libro di qualunque tipo, di storia, di filosofia, di cultura generale, di letteratura, purché l'idea fosse quella di mettere un libro accanto al computer. Ecco, mettiamo un giornale accanto ai social. Grazie. Grazie.